Cari amici, in questo momento di grande emergenza mondiale e soprattutto italiana, la Leida cerca di stare vicino e supportare i proprietari di animali domestici. Mi rivolgo ai proprietari dei nostri amici a quattro zampe che sono in quarantena, che sono anziani, che sono ricoverati e che hanno difficoltà a gestire i propri animali domestici. Questo per dire che le due sezioni abruzzesi della Leida, della sezione di Chieti e la sezione di Teramo, mettono a disposizione i propri volontari per cercare di dare una mano nel limite del possibile a tutte le persone che ne hanno bisogno. Quindi se avete problemi di gestione dei vostri animali a livello di passeggiate piuttosto che cibo oppure avete bisogno di consigli o supporto, noi siamo a vostra disposizione. È chiaro che il territorio del Chietino e del Teramano sono territori estremamente vasti e quindi i nostri volontari, essendo un numero limitato, sicuramente non potranno coprire tutte le zone. Ma vi assicuro che faremo il possibile. Quindi se avete bisogno potete contattarci sulla pagina Leida Teramo oppure sulla pagina Leida Chieti in base da dove viene la vostra richiesta. Cercheremo di starvi vicino e cercheremo di supportarvi nel miglior modo possibile. Grazie.